Chiudi gli occhi e pensa al panforte, è il dessert uscito trionfatore dalla prima tappa di Dulcis in Primis, l'iniziativa promossa dalla Regione Toscana riservata agli istituti albergheri per valorizzare, dopo il grande successo di primi di Toscana, la tradizione culinaria regionale attraverso i prodotti dolciari. Tre gruppi, ciascuno composto da due ragazzi del quinto anno, si sono sfidati con altrettanti dessert nella prima sfida che si è svolta all'Istituto di Istruzione Superiore Vasari di Figline in Cisa Valdarno. La Regione Toscana è un interlocutore privilegiato per quanto riguarda la formazione, in quanto sostiene e spalleggia tanti nostri progetti che vanno verso l'avviamento al lavoro, non solo in ambito della ristorazione e della ricezione della sala, ma in tanti ambiti di concerto anche con le aziende del territorio. Una giuria di esponenti di settore della Federazione di Pasticceria ha valutato i tre dessert proposti dai ragazzi che hanno lavorato con gli chef di tre realtà del territorio, l'hotella Borghetta, l'hotella Palagina e il borro di Ferragamo, rivisitando in modo innovativo ricette tradizionali del territorio, come il panforte, il gatto a retino e lo zuccotto alla Fiorentina. Ragazzi, dopo questa fase di progetto, vorrei dire una parola forte, ma sono veramente quasi trasformati, perché capiscono la validità di tutto quello che loro, del sacrificio che fanno a livello scolastico, trasferito nella realtà lavorativa, il risultato che possono dare. Ed è veramente un risultato entusiasmante. A conquistare i palati per il gusto, ma anche gli occhi per l'aspetto estetico e per la presentazione, è stato il panforte rivisitato da Gabriele Stredia e Tommaso Tomminello, che porteranno il loro piatto alla finale del 10 maggio all'alberghiero Martini di Montecatini. Qual è il segreto di questo dessert? Partiamo subito con una pasta sablé, che sarebbe la base del dolce, quindi sarebbe biscotto, aromatizzato alle spezie del panforte. Successivamente abbiamo fatto un cremoso al cioccolato, con all'interno abbiamo messo frutta candita e mandorle, l'abbiamo ricoperto e glassato nella glassa a specchio. Successivamente abbiamo fatto un gelato all'arancia aromatizzato al timo, fatto con l'azoto, quindi un gelato espresso, molto consistente e molto buono. Abbiamo completato il piatto con la base del biscotto, sopra questo cremoso e una ganella di gelato. Al dessert è stato abbinato anche un vino canaiolo chinato, in perfetta armonia con i suoi sapori speziati. Ma cosa ha lasciato ai ragazzi questa esperienza? Ci ha cambiato profondamente, è stata un'esperienza umana, sia dal punto di vista professionale, visto che ci ha dato l'opportunità di provare nuove tecniche e di affiancarci a uno chef abbastanza, che sapeva veramente fare il suo lavoro e che ci ha passato a noi, e inoltre anche il fatto che dal punto di vista personale, perché abbiamo incontrato, grazie all'intervista, è stata una persona veramente appassionata e ci ha passato tutta la sua passione per questo dolce.